Forse non gli è stato assolutamente favorevole. Ecco lo sparo, sono partiti, guardate la curva di Mennea, perfetta, eccezionale, guardate come progredisce, morbido. Era stato in curva che aveva avuto i problemi negli altri tentativi. Questa volta no, piccolo sbandamento in rettilineo e poi una progressione eccezionale. Non guarda mai indietro, sempre avanti come appuntare un obiettivo che cerca da tempo. Taglia il traguardo, non ha neanche il coraggio di girarsi verso il tabellone elettronico. Vuole sentire l'urlo della folla, lo sente, ha capito che ha fatto il record. Adesso sa che addirittura il record mondiale lo gridiamo tutti. Glielo grido pure io che fra poco corro dietro di lui con il collega Fraiese e con tutti gli altri. Eccolo, eccolo, lo vedete, è quasi commossa. È la prima volta che vedo le lacrime negli occhi di Mennea. In questo momento il mio microfono non funziona, molti fili sono saltati come le emozioni.